Bene ragazzi, questo è il terzo video di questa tipologia, in cui parto sempre da farvi vedere la tabella, quindi dovete aver visto i due video precedenti. Questa è la tabella riassuntiva di tutte le trasformazioni con tutte le informazioni che potete ottenere appunto grazie a questa bellissima tabella, perché vi ripeto, in nessun libro trovate una roba del genere. Siamo alla terza trasformazione, quindi nel video precedente ho fatto l'isocora, in quello precedente l'isobara, adesso guardiamo l'isoterma. L'isoterma cosa ha di bello? La sua temperatura non cambia. Cosa che aveva già notato Boyle, e infatti la legge di Boyle cosa dice? Che in una trasformazione isoterma, in cui vabbè non cambia il numero di moli, ma questo è sottinteso, in queste trasformazioni, ciò che rimane costante è il prodotto pressione-volume, quindi proporzionalità inversa tra pressione-volume, e infatti, mentre in isocora e in isobara, le linee sono semplici perché sono nell'isocora verticali e nell'isobara orizzontali, quindi anche calcolare il lavoro è facile, perché nell'isocora fa zero e nell'isobara è l'area di un rettangolo, qui capite la difficoltà di dover calcolare il lavoro, perché il lavoro, nel caso in cui ad esempio il volume aumenti, è l'area di questa cosa qui. Ok, e questa cosa qua come si chiama? È mica un trapezio, ok? Perché si va a creare una curva che non è assolutamente retta, e quindi calcolare l'area di una cosa del genere è complessissimo, e infatti la formula sarà complessa perché sarà il risultato di un integrale, e ovviamente noi gli integrali non sappiamo farli, quindi ci dobbiamo fidare e credere nella formula. Ora partiamo però dalle cose facili, così ci capiamo. Allora, variazione d'energia interna uguale a zero. Allora, la formula dell'energia interna è sempre, variazione d'energia interna è sempre delta U uguale a nCV delta T, ma poiché la temperatura iniziale è uguale a quella finale, delta T fa zero, è l'unica cosa bella dell'isoterma, e visto che delta T fa zero avremo n per Cv per zero che fa zero, quindi nell'isoterma non c'è variazione di temperatura ed energia interna. Bene, ma le belle notizie sono finite qua. Perché? Perché appunto calcolare l'area sottesa è difficile, ok? ed il risultato ha all'interno un logaritmo. Voi il logaritmo non l'avete ancora visto, ma nella calcolatrice è presente, ve lo faccio vedere, almeno dov'è, perché poi in realtà di forme di logaritmo, ragazzi, ce ne sono tre in una calcolatrice, quindi dovete vedere, tra le altre qual è, è questo qua, è ln, quindi è questo tasto qui, vedete, ln, quindi se voi fate ln di 5, abbiamo un risultato. Quindi per voi è, non è ln per 5, ln vuol dire logaritmo in base e di 5, che viene 1.6, quindi noi lo sfruttiamo un po' come gli esponenziali, come seno e coseno, sono funzioni che noi applichiamo a dei numeri e quindi creiamo un altro numero. Allora, il perché di questa formula in realtà non è così complesso e vi faccio vedere da cosa nasce, però poi capiremo che non riusciamo a risolverla, nel senso che il lavoro, come è definito in generale, come l'integrale della pressione su un aumento di volume infinitesimo. Ora, se la pressione è costante, il risultato è molto facile, perché la pressione esce ed otteniamo PΔV, ma questo non è questo caso, perché purtroppo nell'isoterma la pressione dipende dal volume. E come? Beh, si usa la legge di Gasperfetti, PV è uguale ad nRT, quindi capite che la pressione dipende dal volume. E quindi io al posto di P scrivo nRT diviso il volume in dV. Ora, nell'isoterma n è costante, r è costante, t è costante, quindi escono dall'integrale. E quindi mi rimane l'integrale di dV fratto V. E si va da un volume iniziale ad un volume finale. Noi al massimo sappiamo arrivare qua, nel senso che qualcuno in quinta poi ci dirà che l'integrale in dV su V è un logaritmo, e quindi il risultato è nRT, che è uscito da una quantità costante in un isoterma, per il logaritmo del rapporto tra Vf e V. Cioè a noi manca, ragazzi, questo passaggio qua, ok? Quindi questa cosa va purtroppo imparata, nRT per il logaritmo del rapporto dei volumi. Ricordo Vf fratto V, non fate il contrario, altrimenti cambia segno il risultato. E Q è difficile? No, ragazzi, perché Q è L più delta U. Ma visto che delta U fa 0, Q è uguale ad L. E quindi Q ruba la formula ad L, vedete che sono uguali? E infatti in un isoterma calore e lavoro sono uguali numericamente. Se il lavoro fa 300, il calore fa 300. Benissimo. Come faccio, ragazzi, a creare un esempio di isoterma? Isoterma vuol dire che il nostro sistema interno, il nostro gas, deve essere a contatto con un termostato, cioè con un ambiente che rimane a temperatura costante. E ad esempio, io ho fatto l'esempio in un isoterma, di un cilindro pieno di aria, un contenitore di aria, immerso in una piscina di acqua e ghiaccio, che rimane sempre quindi termostatata a 0 gradi. Ma un altro esempio, tanto per capire, è avere una bottiglia deformabile, ovviamente di plastica, sotto un flusso di acqua corrente sempre a 10 gradi. In quel modo noi termostatiamo anche la bottiglia di plastica, che è sempre a contatto con una cosa a 10 gradi, anche lei a 10 gradi. Quindi la temperatura viene imposta dalla temperatura esterna del termostato. E ovviamente, ad esempio, noi cambiamo il volume, ad esempio schiacciandola. Cosa succede quindi se noi schiacciamo questa bottiglia di plastica? Beh, allora, intanto ci sono due casi, nel senso che in un isoterma, ovviamente, la situazione è sempre, cioè genereremo sempre un iperbole, ma nel primo caso abbiamo un'espansione, un volume che aumenta. E nel secondo caso, invece, una contrazione, una compressione in cui il volume diminuisce. Quindi, questa formula qua, che è quella del lavoro, ovviamente, non siamo noi che dobbiamo metterci dentro un più o un meno. Automaticamente, il lavoro con questa formula può essere positiva o negativa, perché il logaritmo crea sia quantità positive, e quindi fisicamente un'espansione, sia quantità negative e quindi una contrazione, perché dipende appunto se Vf è maggiore di Vi o Vi è maggiore di Vf. Questa cosa è più matematica. Però l'idea è che già da quella formula dentro il segno, non siamo noi dovercela mettere davanti. E, allora, nel caso di una espansione, quindi quando aumento il volume, ovviamente il lavoro sarà positivo, perché aumento il volume. Se invece avrò una contrazione, quindi vado in questa cosa qui, il lavoro sarà negativo e sarà quest'area qua. Capite che è difficile calcolare quest'area, il risultato è appunto un logaritmo. Quindi, guardiamo il problema di un'espansione e di una contrazione, o di una compressione. In questo caso è uguale, perché se diminuisce il volume aumenta la pressione in un isoterma. Allora, prima di tutto, isoterma significa che la temperatura non cambia, quindi l'energia interna non cambia. Ok? Quindi, tutto il calore che entra mi va a produrre lavoro, o tutto il lavoro subito mi va, esce come calore. Quindi, qui com'è il giro? Allora, in un'espansione abbiamo un aumento di volume, e quindi il lavoro è positivo. Ok? E abbiamo, visto che il calore e il lavoro sono uguali in un isoterma, con L positivo e anche Q positivo. Quindi, il giro, ragazzi, è questo qua, ovviamente. Entra energia sotto forma di calore, il sistema non aumenta di temperatura, e quindi tutta questa energia, ok, viene usata per aumentare il volume. Questa è un po' la linea di passaggio di energia. Nella contrazione, al contrario, perché nella contrazione, cosa succede? Che, ad esempio, se schiacci la bottiglietta, beh, prima di tutto è un isoterma, quindi ΔU fa 0. Però, se tu schiacci la bottiglietta, è perché, cosa succede? Che il volume è diminuito. Ok? Quindi tu mi vai a diminuire il volume, il gas automaticamente tenderebbe, no, ad aumentare la propria temperatura, ma non può, e quindi tutta l'energia esce dal sistema sotto forma di calore. Ancora una volta, questa è energia in ingresso, energia in uscita, e quindi tutta l'energia che il gas prende sotto forma di lavoro subito, la deve cedere, perché non può aumentare la propria temperatura, all'esterno. Ancora una volta, Q ed L sono uguali, perché hanno, sono uguali, hanno lo stesso segno, e in questi casi sono entrambi negativi, mentre in questo caso qui è positivo. Quindi in un esempio, in un'espansione, qui il calore farebbe più 300 e il lavoro più 300, joule, invece in questo esempio il lavoro sarebbe meno 300 e il calore ceduto, quindi sarebbe meno 300.